Le faville erano volate verso est, vale a dire presagio di una brutta annata. Una strana successione numerica mai accaduta prima. Severa da morire di stenti. Libro! Abbiamo trovato il libro! Libro! Portalo qui! Chi possiede questo manuale è in grado di governare la notte. Trenta monete d'oro. Ma certo, però datemi un ognò. Devo recuperare un libro e ho bisogno del tuo aiuto. Questo accorgimento serve solo per rallentare l'eventuale rito. Allora, nel libro è descritto il rito massimo. La vostra tomba, che fine ha fatto? Ma invece di bruciarlo, come ordinato da sua santità... È lui il loro capo. Sapete come nasce un drago? A dirla tutta Dante non si limita a parlare di Ezzelino. I due non si rivedranno mai più. Permettetemi di accompagnarvi in questa avventura. L'amore! Ah, l'amore! Andiamo a mostrarci agli uomini. In casa di Vigilata, Ezzelino risale alla Valdastico, fino a Pedescara. Ci trasferimmo in quello di Romano. Il quinto, il quinto! Streghe, difendiamoci con le sette! Calano le ombre sull'alto piano e Ezzelino è tornato il tiranno di sé. Per noi è finita! Tutti si inchinano al nuovo comandante. Nero, in un' Buon üzerine a места! Quinto!